27 novembre ora posso detenere gli individui di sospetti in pratica devo suggerire qualcosa che non va posso sostanzialmente buttarli dentro le regole sono quelle di prima solo che ora posso eventualmente buttare dentro i simpaticoni è qua per visita un paio di settimane però c'è il passaporto che ho la discrepanza via 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 adesso è qua in visita of x va bene, ci assomigli, sei femmina, FHN7C, scheda 184, va bene un paio di settimane, scadendo 184, quindi va bene, sei maschio, ci assomigli LSV80C4CA4X5, vinse le strade, può passare e per PLEASE, visita 3 mesi, va bene, scheda 184, Bernard Magliatsky, ok, UVQ30, ok, va bene, direi che puoi entrare passate solo a passare per due giorni scadendo 184, maschio, ci assomiglia, Ning, Jared, 240TWBS, ok, direi che è positivo in visita, 12 settimane, giusto, 3 mesi, D6AME, 2FQNF, Lior, qua c'è qualcosa che non va però, scaro mi chiamo mi chiamo mi chiamo va bene scadendo 184 poi passare manca il passaporto manca il passaporto manca il passaporto mi mancava questo che mi fa solo perdere tempo giamanzano per lavoro ok 3-6-3 mesi 3VD-69VR-131, va bene cosa c'è che dice non mi convince non mi convince molto sto qua post-hoc ho scaduto 23-6-8-5-0-83P orto D CXXV68C6 e my forever immigrato ok questa praticamente entra e ci sta approva vai bravo paper ok si però non puoi passare perché ti manca il permesso e la mi spiace passport dunque scan 33 6 femmine 8p spero che giro che mi viene più comodo rosa chievi nova 8p ck u f5 e 0 j 14 giorni scadano 33 fammi vedere per scrupolo import ok c'è un aggiornamento con lo spazio entro nella modalità ispezione migrante take the jobs from locale giustamente gli immigrati per la nuova roba un nuovo giorno di nuovi migranti allora se entri per lavoro devi avere un valido pass lavorativo va bene facciamo qua come sempre allora questo è il pass lavorativo che è fatto così quindi questi simboli ecco ok perfetto scheda 84 marcel scimanski cnh365 lf tre mesi ha detto tre mesi si va bene ci assomigli anche questa per lavoro anche questa per lavoro work 6 mesi la signora ah c'è una puttanella la signora scubis Anna 84 va bene fino all'83 può lavorare va bene va bene va bene va bene questo è uno di qua octobalis pesa 88 kg scadola 84 sei maschio va bene per un anno via 1 quna qmr7 marlene goez questa può entrare perché è di lavoro va bene ok tu puoi passare l'aiuto per Dani l'aiuto per Dani rom manca mi spiace ma manca il dd no o meglio o meglio tu non sei di qua o meglio mi stai facendo vedere che non sei di qua quindi manca il passaporto il passaporto il passaporto il il permesso di entrata si sei sempre te sei sempre te paper please vuole immigrare per sempre i varson michel vediamo un po' se questo permesso ok c'è il marchio giusto scadola 84 sei maschietto ci assomigli bp8 lalj ok direi che puoi passare qui mi la messa nel culo allora tu sei di qua burnon street burton district va bene scadola 84 80 kg ci assomigli ludum dari vai e quindi la va fino abbiamo aiutato eric zagajewski e fs9m jr53 vieni qua per lavoro e manca il pass no spiace ma tu non entra il vi vieni qua 1-2 mesi scadola 83 femmina ok se femmina G4MQD ok va bene visita un mese alcune settimane 5 nt 1 dt alexa steiner e che cazzo la faccio mangiare ma niente riscaldamento